La coppia ormai quasi indissolubile da Lozzi-Carandente, componenti della quinta commissione, ancora una volta a qualcomune per sollecitare questa firma della Determine per montare le luminarie. La pratica oggi dovrebbe essere la giornata cruciale in cui addirittura si giustiano i lavori per montare le luminarie. Purtroppo c'è stato un piccolo ritardo nella gestione perché con le pratiche degli alloggi, diciamo così, si sono un po' rallentati le cose. Però per fortuna stamattina il dirigente di pace deve mettere una semplice firma, però anche ora è impegnato all'interno con altre persone e quindi stiamo aspettando. Esatto, e voi come segui lo state incalzando perché le luminarie sono una cosa importante per la città. Secondo me è l'organo principale che trasmette un rapporto tra registrazione e persone. Ok, quindi entro oggi dovremmo vedere montate le luminarie, se tutto filarisce.